Ciao a tutti, mi chiamo Esposito Simona, vengo da Napoli con 19 anni. L'anno prossimo mi diplomò il quinto anno Scienze Sociali. Nella vita frequento studi di danza classica moderna e contemporanea. Ho fatto anche degli stage a Roma, di cui ho vinto anche dei concorsi, una borsa di studio. E faccio parte anche di una compagnia di danza chiamata Scaramacai. Nell'anno 2008 sono andata a fare il provino per Peline e sono stata scelta. Fino ad arrivare agli semifinali, mentre invece sempre nell'anno 2008 sono stata scelta per Paperetta, come a Paperissima 2008, di fianco a Gerry Scott e a Michelle, per recitare, per ballare e per trasformarmi nei vari personaggi che a loro interessavano. Nella mia vita, diciamo, io mi vorrei ispirare a fare spettacolo perché è una cosa che mi piace da tanto tempo. e vorrei far sì che il mio sogno, diciamo, si avverasse perché di bellezza, idea, bellezza. Ho sfilato per idea, bellezza e no, per altri concorsi, non solo idea. Ho fatto stage, sì, di danza, sempre di danza e ho vinto una borsa di studio a Roma, diciamo, con tutta la scuola e poi amo, diciamo, fare shopping, stare con le mie amiche, però, diciamo, il mio futuro vorrei che, diciamo, riuscire ad entrare nel mondo dello spettacolo, fare tv e realizzarmi veramente, veramente. Da questo è tutto, ciao!